Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo con il Re Pastore, ma anche con le piccole perdute. Potremmo parlare di una doppia identità. Il Re Pastore è anche Gesù e le pecore. Cioè, con i fratelli più piccoli bisognosi si identifica. E indica così il criterio del giudizio. Esso sarà presso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Perché lui stesso, il giudice, è presente in ciascuna di essi. Lui è d'ugice, lui è Dio, uomo, ma lui anche è il povero. Lui è nascosto, è presente nella persona dei poveri che lui spiega, che lui menziona proprio lì. Dice Gesù, in verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto o non avete fatto, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto o non lo avete fatto a me. Saremo giudicati sull'amore. Il giudizio sarà sull'amore. Non sul sentimento. No. Saremo giudicati sull'opera, sulla compassione che si fa, vicinanza e aiuto premuroso. Saremo giudicati sull'amore. Grazie. Grazie.